Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo nostro nuovo video vi presentiamo un libro dedicato alla luce ultravioletta. Poi vedremo un minerale in luce ultravioletta, la ragonite, e poi vedremo un altro volume, la luminescenza nel regno minerale. La luce ultravioletta è impiegata in tanti settori. E questo breve manuale introduce all'utilizzo della stessa. Ne spiega i principi e tanti pratici utilizzi. Grazie. Grazie. Poi proseguiamo con il vedere un minerale, la ragonite, illuminata con luce ultravioletta. Qui vediamo quando il minerale non è illuminato e invece qui quando è illuminato. Adesso vi presentiamo invece un libro importante dedicato alla luminescenza nel regno minerale. è un libro di mineralogia dedicato alla luminescenza dei minerali. Grazie per l'attenzione e vi aspettiamo per un prossimo nostro video. Salve a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.